Dal 5 al 7 maggio prossimi si rinnova qui a Tolentino in centro storico la Notte 815. Ne parliamo con la presidente dell'associazione Tolentino 815 che organizza questa manifestazione, Patrizia Francioni Scisciani. Tante le novità che avete pensato per questa edizione 2017? Le novità ne sono tante, molteplici. Dal fatto che la prima e la seconda edizione si è fatta una sola Notte 815, quest'anno faremo il venerdì sabato e parte la domenica mattina. Non è solo Notte 815 ma Notte 815 ma c'è l'Ottocento per far sì che si possa raccogliere tutti quelli che sono gli eventi, gli elementi figuranti e la storia del periodo ottocentesco e quindi allargarci a largo raggio. Si inizierà quindi venerdì dal pomeriggio? Sì dal pomeriggio. Abbiamo cercato di poter coinvolgere quando più possibile i commercianti di Tolentino per cui una cosa al loro tema è la vetrina più bella, sempre per far sì che siano entusiasti e si possa favorire il commercio del centro storico. Diciamo che le novità di quest'anno sono i writers e i pittori che chiaramente faranno le loro opere d'arte riguardanti il periodo ottocentesco. Poi c'è una particolarità, una curiosità interessante che abbiamo chiamato sfogatoio artistico. Ci si consenta questa espressione per far sì che i passanti avendo a disposizione un cartellone con pennelli esprima quello che sentono in quel momento o la sensazione, l'emozione che suscita questa realtà. Il venerdì i ragazzi di Tolentino, che fanno parte della City Sound, di City Sound Tolentino, ragazzi molto attivi, si attiveranno per fare alla sera alle 9 e mezza, 9 e un quarto, 9 e mezza, la caccia al tesoro, chiaramente ambientata con personaggi, con i costumi del periodo riguardante. E due elementi che rappresentano un pochettino una sfida e a cui tengo tantissimo sono il banchetto del re, tant'è vero che il Circo del Cittadino ci ha dato a disposizione una delle sue sale per fare il banchetto proponendo tutte le ricette del cuoco maceratese e nebbia e sarebbero graditi gli ospiti che vengono a mangiare vestiti in costume d'epoca. A costo basso, perché il tutto è a 25 euro. E oltre a quello, sotto l'androne del Palazzo San Gallo e parte della piazza, verrà allestito anche il rancio del soldato. E poi si ricomincerà sabato mattina con la visita nei luoghi che hanno interessato la battaglia del 1815. Certamente, alla mattina alle 9.15 c'è il punto d'incontro del Castello d'Arancia per visitare tutti i luoghi della battaglia, per cui parliamo del Casone, parliamo dell'Esalcito, parliamo lì del Castello, tutti quelli che sono i posti appunto che ricordano la battaglia del 1815. Alle 11 alla Sala Mari verrà proiettato un documentario sulla battaglia di Occhiobello. Poi, dopo la proiezione di questo documentario, nelle pomeriggio giochi popolari per i più piccoli, ancora arancio del soldato a partire dall'ora 18 e appuntamento imperdibile, la sera in Piazza della Libertà con i balli storici. I balli ottocenteschi del gruppo Estense di Modena. L'aspetto, diciamo, interessante della notte 815, ma d'immagina dell'Ottocento, è che tutti gli eventi saranno comunque con sede fissa, ma alla stessa maniera itinerante. La manifestazione poi si concluderà domenica in mattinata con la presentazione di due libri. Sì, verranno presentati due libri nella Sala Mari del Palazzo San Gallo. Uno è il secondo Cavalaggeri, da Napoli a Torentino, storia del reggimento dal 1986 ai giorni nostri, scritto da Vito Rampino. E l'altro è Carbonaria Macerata, a 200 anni dai modi di Macerata del 1817, di Renato Pasqualetti. Per concludere quindi, un invito finale a partecipare numerosi a queste tre giornate? È chiaro che mi affido alla volontà di chi ci ascolta, di chi sente l'intervista, per far sì che tutti vengano numerosi a godere e apprezzare appieno di quello che noi abbiamo organizzato. Grazie. Grazie. Grazie.